ragazzi ragazze la melonia che gioco gioca faraone davide faraone deputato di taglia viva resta tra i papabili per la presidenza della commissione d'inchiesta sul covid amici la follia italiana non ha limiti la melonia che gioco sta giocando collegati vi voglio collegati non mi esprimo non mi esprimo ragazzi non mi esprimo vorrei ricordare ciao a tutti collegati vorrei ricordare cosa diceva faraone il senatore faraone proponeva un passaporto sanitario integrato al vaccino covid per andare al bar diceva diceva cose cose assurde cosa assurda il patentino pure per andare al bar questo è faraone mi chiederei di condividere di condividere perché veramente mi viene da vomitare se veramente faraone è il predestinato a diventare presidente della commissione d'inchiesta intanto intanto questo ban palese fa vomitare fa capire che fate vomitare voi che siete dietro a tutto perché è assurdo veramente non so mettete fatto una cosa fate presidente faraone vicepresidente bassetti burioni e crisanti consiglieri poi ci mettete potreste metterci draghi ci potreste mettere conte poi ci potreste mettere in commissione speranza fate una commissione d'inchiesta con questa gente qua fate prima fate prima ognuno vuole la sua fetta e non mollano eh ti do la rossana è che qua non vogliono far venire fuori la verità qua è palese vogliono nascondere la verità una cosa indecente sto leggendo la verità la sinistra prova a sabotare la commissione d'inchiesta presentati circa 120 emendamenti soprattutto da pd e 5 stelle al testo che istituisce l'organo parlamentare d'inchiesta sulla gestione dei contagi grillini le indagini si allargherono anche alle regioni il centrodestra resta comunque compatto ma sta nipotizzando faraone a capo della commissione d'inchiesta e ovviamente questo argomento non deve venire fuori tanto che guardate 58 collegati manco uno su mille cazzo mi fate vomitare manco mi fate vomitare veramente finirà tutto insabbiato giuseppe dice sì presumo di sì presumo di sì perché siamo gestiti da gente del genere guardate chi vogliono mettere chi sta nipotizzando tra i papabili per la presidenza della commissione d'inchiesta chiudo con questa faccia guardate ecco questo con questo sguardo intelligentissimo e veramente si vede che è un degno di nota proprio un presidente perfetto per la commissione d'inchiesta lui guardate questo questo è presidente potrebbe essere il presidente della commissione d'inchiesta voluto dal centrodestra da giorgia meloni guardate questo questo potrebbe essere il presidente della commissione d'inchiesta guardate veramente mi viene da vomitare anzi vado a vomitare ciao a tutti